Eccoci tornati in studio come vi avevo annunciato, adesso abbiamo qui con noi Rodrigo Basilicati che è l'anima delle Palle Lumiere, nonché nipote di Pierre Cardin. Insomma c'è tempo fino al 30 giugno qui perché questa opera possa essere realizzata e ci sono sempre nuovi bastoni fra le ruote, leggevo anche oggi alcuni giornali e adesso la valutazione di impatto ambientale. Iniziate a perdere fiducia in questo progetto? Questo ultimo punto non credo sia un problema, nel senso che è stato valutato che non c'è più bisogno di VAS, cioè di valutazione ambientale strategica, ma di quella di impatto ambientale che però prevede normalmente, che io sappia, insomma prevede un progetto più avanzato dello stato in cui adesso è e che è comunque avanzato, è un preliminare avanzato. Deve essere proprio definitivo e quindi sarà un passaggio che avverrà più avanti. Ma noi abbiamo già fatto uno screening in questo senso, quindi già è stato fatto un pre-studio per la via, quindi siamo avanti. Presumo che se si sfruttano i tempi dell'itere e si fa in velocità, quando sarà arriverà in breve la risposta. Quando si tratta del Palais Lumiere, adesso magari la regia può anche farci vedere alcune immagini, sicuramente è un'opera, per quanto possa essere alta, possa essere comunque anche un'opera d'arte oltre a creare parecchie possibilità occupazionali, tanto più che va a insistere in un territorio che non è la città di Venezia ma è Marghera. Marghera, tanto vituperata, dissacrata, luogo che deve essere necessariamente riqualificato eppure le voci di contrasto, insomma avete sempre qualcuno che alza il dito e ha qualcosa da ridire. Anche se suo zio ha ricevuto insomma in Popamagna un premio alla Finice, quindi c'è un certo riconoscimento da parte delle istituzioni locali. Istituzioni locali però che forse adesso stanno facendo sentire meno l'appoggio, cioè che cosa si dovrebbe fare? Perché d'altro canto invece mi pare che la cittadinanza sia favorevole. Beh, credo che gli abitanti di Marghera non aspettino altro perché indubbiamente... Sì, abbiamo dei report positivi spontanei tra l'altro, un appoggio veramente forte in questo senso. Ecco, si dovrebbero far sentire. Cioè è bello avere un blog, un luogo di consenso fisico, con internet, però purtroppo chi si fa sentire di più è sempre quello che biasima l'operazione, quello che non la vuole perché è più facile un po' arrabbiarsi. Invece chi è d'accordo fa aspettare normalmente. È pro ma aspetta. Senta, proprio per così animare sia il fronte del no che il fronte del sì, perché insomma noi dobbiamo essere super parte. Se vogliamo ricordare quali sono i numeri pratici, concreti, no? Perché anche ieri sono stati dati dei dati sull'occupazione internet abbastanza allarmanti. Quindi questa occasione di fare, dare lavoro, ce la può riassumere? Insomma, ricordiamo. Noi abbiamo ripetuto più volte, ed è credo sulla base di questo, che le istituzioni appoggiano super partes, cioè che siano di qua o di là, tutte hanno appoggiato e capiscono. Certo che si parla di un impiego di circa 7-10 mila persone tra reali e lavoratori e indotto durante la fase di produzione. La costruzione di quest'opera è vero che vorrebbe essere inaugurata nel maggio 2015, ma ormai, dati i tempi, non sarà completata in quell'anno. Ma si perderà l'occasione dello SPO 2015? No, 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 ci sarà l'inaugurazione, ma l'opera sarà solo tutto l'involucro e tutte le parti sociali, diciamo, comuniche, quelle che funzionano con il pubblico, il parco, il teatro, il grande teatro, il cinema, le parti commerciali, che sono a terra, e magari le vedere perché ha un significato. Sì, queste sono immagini, voi avete un repertorio, vi farò avere qualcosa di più aggiornato. Noi stiamo continuamente andando avanti, sì, il progetto si evolve. E niente, questo numero di lavoratori continuerà fino alla fine della produzione, anche degli interni, di tutta la parte, non solo grezza, ma finita interna. E quindi si arriverà fino al 2017, di fatto, 16 completo. Un miliardo e 400 milioni di euro l'investimento globale. Quasi qua, 1,5, 1,4 e mezzo, comprendo tutto, insomma, non gli oneri, non le tasse, non l'IVA perché c'è da aggiungere anche quella. Sì, al netto, diciamo. Siamo al netto, ecco. Però è un importo che è ai limiti anche del nostro studio finanziario. Noi, tra l'altro, lo stiamo completando. Nonostante tutto l'incertezza di fatto che permane, noi stiamo procedendo perché sarebbe troppo tardi proporre la cosa in definitiva con il piano alle banche tra un mese e due mesi. Quindi voi state già dialogando con le banche? Noi stiamo già dialogando, sì. Perché i tempi sono quelli. Noi a fine giugno siamo obbligati a dare una risposta definitiva anche a noi stessi. Che poi le banche credono in voi, no? Che di questi tempi le banche sono piuttosto restie, no? Le grosse banche sono allucinati da questo progetto che intravedono e vedono, insomma, conoscono grandi banche, conoscono progetti simili nel mondo e, hanno detto anche loro, non abbiamo mai visto cose di questo tipo. Sono questo tipo di investimento. Non per la portata di investimento, sì, per l'Europa è una delle più importanti in questo momento, ma nel mondo parlano dell'immagine che dà quest'opera, non c'è nulla, sono molto speculative quelle... È una torre della luce, perché poi non è che voi volete costruire un capannone o chissà che cosa, è una torre della luce, quindi è destinata a essere anche un monumento poi nel futuro. No, ma così, ecco, è importante perché qualcuno ha un po' ridicolizzato questo nome, l'ha usato, contro, eccetera. Non è che sarà una torre che illumina Venezia. No, assolutamente. Anzi, l'impatto luminoso è del 20% di una normale torre, perché usiamo tecnologie a basso a LED, naturalmente, e se c'è qualcosa di meglio lo useremo, che risparmia enormemente l'energia e ha un impatto esteriore minimo. Io intendevo una luce della mente, una luce della... No, no, ma l'ho preciso, infatti, chiunque... L'ho preciso, addirittura abbiamo impostato con l'ENAC, alla fine di tutto lo studio, 500 pagine, addirittura un sistema che non era richiesto di collegamento con l'aeroporto, per cui le luci di segnalazione che dovrebbero essere accese dall'orario dell'imbronire fino alla mattina, come tutte le altre torri di Marghera, inquinanti in questo senso, parecchio, verranno spente quando non sono necessarie. Pure quelle. Non parliamo della torre in sé. I vetri sono basso emissivi e la luce filtrerà. Tra l'altro i vetri, non a caso, io intendevo la luce, nel senso la luce è anche dell'arte. Il vetro di Murano, no? Anche questo accordo che avete siglato... La parola Lumière vuol dire luce su Marghera, che possiamo considerarla un'ombra per Venezia, potremmo dire idealmente. In questo senso... Ecco questo è di parte, essendo nata a Marghera, quindi mi porteranno i telespettatori se oggi ho questo afflato per il pale Lumière, perché conoscendo il territorio, forse un palazzo della luce che porti luce anche su una zona della terraferma veneziana, che bella, perché è anche una città giardino che ha un suo fascino, insomma. Per cui, perché continuare ad oscurarla? Tra l'altro, l'opera è in vetro, ho insistito molto, quando la struttura è arrivata alla definizione totale, dopo la mia prima proposta, ha imposto una struttura metallica esterna, reticolare esterna, che normalmente si mette all'esterno, cioè si fa vedere. Io invece ho insistito perché forse all'interno dei vetri, quindi molto all'interno, 80 cm, quindi non a contatto, non si vedrà quasi dall'esterno, se non quando è tutto illuminato, perché voglio dare importanza a questa idea del cristallo. La forma non è parallelepipeda, ma è mossa e quindi farà nelle parti basse riflettere il cielo, nelle parti alte farà riflettere il verde, quindi i colori saranno quelli naturali che vedremo di quest'opera, e quasi sfumerà, quasi si sfocherà con il cielo, se si può dire così. In realtà c'è anche questo, quando abbiamo ragionato con Promovetro e con Murano, recentemente, per noi era una cosa ovvia, ma non abbiamo pensato di esporla e parlarne, ma è ovvio che i vetri artistici sarebbero stati fatti a Murano. Quindi si sono proposti loro? Per loro sono proposti e noi è giusto, ma certo, anzi, con l'occasione ho fatto i conti, ho potuto fare veramente, ridistribuire, adesso la cosa la svilupperò per tutti i settori, ma l'ho fatto in velocità per il vetro, e quel miliardo di cui si parla di indotto di euro, che arriverà nel momento in cui gli appartamenti, l'hotel, gli spazi verranno venduti. Sì, perché ci sono attività produttive all'interno, cioè lavoro a vita per chi... Chi compra deve arredare. È certo. E io con il team abbiamo calcolato in circa un miliardo. Tra l'altro... Abbiamo ancora 30 secondi, purtroppo il tempo è tiranno, se possiamo... Quindi abbiamo fatto un patto, un patto e abbiamo dimostrato che, insomma, minimo 20 milioni di... Tra lustri, chiamiamoli così, e oggetti. Posso dire una cosa, vediamo se... Lei sicuramente sarà d'accordo, insomma, tutti sbaviamo per andare a New York a vedere i grattacieli in vetro. E abbiamo un'opportunità di avere uno in casa e di poter attiarare i grattacieli a vederlo. E perché tante polemiche lamentele? Ma non l'ho mai vista in questo modo. In effetti è vero, sì. Strano, ma speriamo che il messaggio passi e pian pianino qualcuno... No, il problema è chi parte da un presupposto di base e insiste sulla propria convinzione. Ma l'architettura in Italia deve modificare, non possono rimanere... I rudri va bene, va bene la traccia del passato, ma diamo anche traccia del presente e del futuro. Sì, poi Venezia è stato un esempio di evoluzione e di ricerca. Appunto, nella maniera più assoluta. Mille anni fa era così. Sì, infatti. Ringrazio Rodrigo Basilicati, lo invitiamo a tornare a documentarci tutti i passaggi verso la realizzazione di questo Palai Lumiare. Insomma, c'è questa data del 30 giugno per poter dare concretenza a questo sogno, oppure doverlo mettere definitivamente nel cassetto. ma l'auspicio è proprio che invece possa vedere la luce il Palai Lumiare a Marghera. È tutto, grazie per averci seguito questa mattina. Ci rivediamo domani mattina. Grazie, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.